E ora invece parliamo di alcol e dei suoi effetti sulla salute, un argomento che sarà al centro del simposio che si trarà il prossimo 29 novembre a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo e che vedrà protagonista ancora l'IRCS Neuromed di Pozzilli. Sarà il consumo moderato di alcol l'argomento al centro del prossimo simposio che il 29 novembre nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles vedrà ancora protagonista l'IRCS Neuromed di Pozzilli. Un argomento ancora oggetto di dibattito tra chi ne consiglia un uso moderato nell'ambito di uno stile di vita equilibrato e chi invece ne raccomanda la totale astensione. Riteniamo sia venuto il momento, dice Giovanni De Gaetano, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCS Neuromed di Pozzilli, moderatore del convegno, di stabilire alcuni punti fermi in questa discussione. Quando parliamo di alcol infatti possiamo affermare che la tolleranza a zero non ha basi scientifiche. Certo, sappiamo che il consumo eccessivo è sicuramente dannoso e lo ribadiremo con forza nel corso di questo simposio, ma le ricerche degli ultimi anni ci hanno mostrato come un consumo moderato nell'ambito di uno stile di vita sano possa avere effetti benefici come la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Grazie al contributo di esperti di livello internazionale, il meeting di Bruxelles sarà l'occasione per riaffermare il concetto del bere responsabilmente con moderazione anche nel quadro della lotta contro gli abusi, un problema di particolare gravità nel mondo giovanile.